Ceduta alla Caritas a titolo gratuito e per sei anni, la parte di proprietà del comune di Arezzo della ex Caserma Piave. 700 metri quadri circa a disposizione per i servizi dedicati ai più deboli. Nella struttura verrà infatti messa in piedi una mensa in aggiunta a quella già presente al Giotto. Nella pandemia è saltato gran parte dell'abitudine della gente a campare come sempre. Bisogna stare attenti perché si rischia che ci siano un sacco di persone che tribolano davvero. Non è solo questione di chi non arriva alla fine del mese, che già è un problema terribile. Ma c'è dietro tutta una rete da ricostruire. Io credo che chiunque governi la città ha diritto a poter avere una cultura intorno che sostiene la città. e riafferma i valori che ci stanno a cuore a tutti. Perché è più quello che ci unisce che quello che può dividere qualcuno. Il progetto più ambizioso poi è quello di poter realizzare in futuro una vera e propria cittadella della solidarietà. Sì, diciamo che questo è il progetto di lungo periodo e di grande ambizione che riguarda l'intera Caserma Piave con una superficie di più di 5 mila metri quadrati. Attualmente nella disponibilità del Comune ce n'è soltanto una parte di circa 700 metri quadri che possono essere e sono stati con una delibera di giunta messi a disposizione gratuita per sei anni della diocesi per realizzare questa solidarietà in ambito della rifezione alimentare. È certamente un primo passo verso un disegno più importante. Quello che è importante è che fare solidarietà usando un mezzo, un edificio, una parte di un edificio che comunque non avrebbe destinazione perché ormai sono troppi anni che non è utilizzato e sarebbe impensabile farci qualcosa di diverso, ci dà la soddisfazione di averlo messo a disposizione per una finalità assolutamente positiva.